Il liceo classico ed il liceo delle scienze umane di Gela sono impegnati per due anni in un progetto Erasmus con tre scuole della Polonia, Italia e Paesi Bassi. Il progetto riguarda il mondo del lavoro in Europa e vedrà gruppi di alunni delle quattro nazioni lavorare assieme. Lo start nei giorni scorsi in Polonia con l'incontro di progettazione del percorso ad opera dei dirigenti e dei docenti delle quattro scuole. La delegazione gelese era composta dal dirigente del liceo classico Giochino Peritteri con le docenti di inglese Giussi Mirisola e Maria Concetta Tasca e di scienze economiche Enza Tascone. Siamo stati accolti veramente bene, abbiamo parlato del mercato del lavoro, abbiamo parlato dell'alternanza scuola-lavoro e verificheremo alla fine attraverso altri passaggi, quello in Germania e quello in Olanda, oltre che un ulteriore passaggio a Gela, quali sono gli esiti di questi incontri. Gli obiettivi sono essenzialmente due, gli scambi culturali e le riflessioni sul mercato del lavoro, il consuntivo alla fine. Il titolo del progetto è On the Way to the European Job Market, a chance and challenge for younger Europeans. Il che significa sulla via del mercato europeo del lavoro, una sfida e un'opportunità per i giovani europei. Vorremmo che dopo l'esperienza scolastica all'estero i ragazzi possano divenire indipendenti, intraprendenti e cooperativi e soprattutto consapevoli dei loro obiettivi. Questo è un grande ambizioso obiettivo che tutti noi ci poniamo, noi docenti, con questo tipo di progetto e speriamo che ne possano arrivare altri. Un primo gruppo arriverà dalla Polonia, poi seguirà quello dell'Olanda e poi quello della Germania. Certamente i ragazzi ospiteranno i ragazzi e questo è un obiettivo molto importante, nel senso che loro si scambieranno modi di dire, la cultura, le tradizioni. E quindi questo sarà un momento di crescita, non solo culturale ma anche socio-economico perché verranno messi di fronte alle nostre aspettative. Faremo conoscere il territorio che è una cosa molto importante, così come i nostri ragazzi conosceranno le altre nazioni. Grazie a tutti.